Sì, la verità è che molto contento perché si è vinto una partita difficile, sofferta. Sabiamo noi che dovevamo vincere, era l'unico risultato per noi. Contento per tutti. Ringraziarlo al mister per darmi l'opportunità di giocare e a tutti i compagni della squadra. Soffi del fatto che poche volte parti di tolare, oppure a volte non giochi nemmeno, ma in quei tre non ci sei quasi male? È difficile perché Massini, Carbo, Espo sono grandi giocatori. Io quando il mister mi dice di dare una mano, faccio lo migliore che posso. Per me è molto diverso il calcio qua. Ancora mi manca, io so che posso dare di più, ma non mi posso trovare come in Argentina. In Argentina è molto diverso, non è molto tattico. È difficile arrivare a giocare in Argentina e arrivare a Italia al primo anno, non è... Nooo, osea, è difficile.